Benvenuti a questi eventi dell'Istituto musicale Rusconi di Rho, città metropolitana di Milano, e in cui vogliamo presentarvi alcuni allievi, ringraziando dell'invito e dell'ospitalità il Consiglio regionale della Lombardia in questa particolare stagione musicale. La nostra scuola di musica, di grande tradizione, è un'agenzia di formazione musicale di base per i più piccoli e pre-accademica per gli adolescenti. All'inizio di questa emergenza abbiamo dovuto rinunciare alle prove e ai concerti dei nostri gruppi d'insieme, ma il Rusconi ha subito fornito un supporto educativo con l'attivazione online di tutti i corsi collettivi e anche individuali, attraverso interventi formativi in diretta sulle piattaforme condivise o attraverso registrazioni audio-video periodiche, con una valenza importantissima, dare un senso quotidiano alla pratica musicale e alla cadenza di verifica settimanale, e in questi giorni anche alla preparazione dei saggi interni e agli esami di certificazione. Il risultato è stato stupefacente, non solo quasi tutti i nostri allievi stanno seguendo le lezioni a distanza, ma assistiamo ad un progresso costante della padronanza tecnica nei piccoli e anche interpretativa nei più grandi, dovuto ad una maggior concentrazione, ad una miglior pianificazione degli impegni e anche alla sfida di porsi di fronte ad una webcam per dare la propria migliore esecuzione. Non ci nascondiamo i limiti di questa didattica musicale, la mancanza del rapporto personale in aula, le difficoltà di connessione in diretta, la qualità dell'audio, ma anche difficoltà cui non si pensa immediatamente in una scuola come la nostra, insegnare ai genitori ad accordare lo strumento, corde rotte da far recapitare e sostituire, mancanza dell'intonazione periodica dei pianoforti, con scordature fastidiose che ascolterete anche in questa nostra antologia. Su tutto però la gioia di poter mantenere la relazione preziosa che arricchisce oltre ogni parola la nostra vita di insegnanti di musica. Un ringraziamento speciale ai colleghi, allo staff, al loro impegno senza risparmio di tempo, in questa prova dura che ci ha comunque spinto a fare di più e meglio per la nostra comunità musicale. Grazie a tutti e buon ascolto. Greta Maglietta di Jack Mazdas, Opera 36, Studio 29, The Gossip. Grazie a tutti e buon ascolto. 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 e buon ascolto. e buon ascolto. Grazie a tutti e buon ascolto. 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 Martina. Bach preludio in D. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.